L'ascolto nella nostra attività è assolutamente fondamentale, ogni giorno siamo di fronte a mille questioni, a mille cose che vanno ascoltate e a tantissime persone a cui bisogna dar conto ascoltandole ed è fondamentale riuscire a trasferire quello che noi ascoltiamo dalle persone nei nostri progetti in generale, non ascoltare vorrebbe dire sbagliare quello che facciamo. Il modo è molto difficile perché ogni persona che ci si pone di fronte è una persona diversa e quindi si cerca il più possibile di ascoltare quello che viene detto e leggere anche fra le righe perché spesso le persone non riescono a esprimere completamente quello che pensano e quello che vogliono e quindi per noi è fondamentale ascoltare ma anche cercare di leggere assolutamente tra le righe di quello che viene detto. Grazie. 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 Grazie.